Allora, io mi chiamo Giorgio Ricciandrello, sono programmer del Sicilia Queer Film Fest, responsabile delle attività culturali di Suttitles Palermo, un'associazione culturale e agenzia di sottotitoli. Sono qui all'Avers perché sono stato invitato per raccontare le nostre esperienze giù in Sicilia e per raccontare come queste esperienze sono diventate da un anno circa un progetto di distribuzione all'interno del territorio regionale. Dunque, quando il Aversville Festival ci ha invitato a partecipare alla prima edizione del Aversville goes to industry, ci è sembrato un momento importante e il modo migliore per fare un po' il punto e la situazione rispetto al progetto che da anni portiamo avanti con Sicilia Queer Film Fest e Suttitles Palermo. Due associazioni che nascono un po' separate ma che da qualche anno cominciano a unire le forze per ragionare sulla possibilità di organizzare degli eventi insieme, nonostante abbiano delle particolarità precise. La prima, il Sicilia Queer Film Fest, è un festival di cinema che nasce come festival a tematica LGBT, poi ha un'evoluzione che prova a mettersi in discontinuità ma anche un po' in continuità con la precedente direzione artistica e che prova un po' ad ampliare il discorso sul termine queer parlando non solo della questione dell'identità attuale ma provando anche a mettere dentro una riflessione sul cinema, sui linguaggi cinematografici e sulle nuove visioni e nuovi registi. Dall'altro lato Suttitles Palermo è una realtà che nasce come associazione culturale e come creata per sottotitolare il Festival di Cinema e il Sicilia Queer ma che negli anni riesce in qualche modo a ritagliarsi uno spazio all'interno di un contesto festivaliero a livello nazionale e lavorando anche con gli istituti di cultura palermitani per sottotitolare i film. A un certo punto era chiaro che bisognava un po' unire le forze anche perché le persone che partecipano, che organizzano il Sicilia Queer e i componenti dell'associazione culturale Suttitles sono più o meno le stesse persone quindi ci sembrava utile riuscire a trovare un po' un modo per continuare a fare quello che facevamo cioè lavorare in un contesto cinematografico però inventandoci anche qualcosa che desse un senso a tutto il lavoro fatto durante l'anno quindi da qualche anno a questa parte mentre Suttitles si occupava anche di rassegne cinematografiche in particolare una rassegna sul cinema italiano che facciamo a Palermo già da quattro anni è un'arena estiva è molto partecipata oltretutto è riconosciuta la città è uno di quegli eventi che la gente giù a Palermo attende abbiamo cominciato a collaborare con le due realtà mettendo dentro Suttitles nella promozione degli eventi cinematografici palermitani inizialmente soltanto all'interno del contesto cittadino quindi con collaborazioni con sale commerciali e all'interno del cinema de seta l'unico cinema pubblico siciliano dentro il quale continuiamo a fare la nostra attività anche perché ci piacerebbe riuscire a dare una spinta per trasformarlo in qualcosa che potenzialmente potrebbe essere e ancora non è e lo scorso anno abbiamo organizzato in collaborazione con un distributore indipendente italiano Donatello Fumarola un tour distributivo all'interno di tre città siciliane intanto delle più importanti Palermo Catania e Messina e l'abbiamo fatta alla presenza del regista il film è Bel Dormand di Aldo Arrieta e abbiamo scoperto che collaborando e dialogando con dei cinema gestiti da esercenti anche un po' illuminati che vogliono mettersi dentro una proposta alternativa rispetto alla alla proposta distributiva convenzionale e c'è una risposta interessante questa cosa qui ha portato a nuovi contatti di distributori italiani ma anche nuovi contatti da parte di esercenti siciliani che hanno intenzione di entrare dentro questa dentro questa rete per noi è interessante perché in qualche modo ci permette di fare quello che noi facciamo già all'interno del festival ma che riguarda solamente il nostro pubblico cioè portare del dei titoli che stanno dentro il dibattito internazionale ma che non arrivano a Palermo non hanno una distribuzione chiaramente la proiezione all'interno del festival ci permette di farne una a Palermo lavorare su più città ci permette in qualche modo di raggiungere un pubblico più più ampio la particolarità diciamo della del contesto siciliano secondo noi è quello un po di creare delle precondizioni che un po si sono perdute cioè noi pensiamo che ci siano dei delle piazze in in cui un po si è persa l'abitudine a non andare al cinema ma andare al cinema in un certo modo cioè andare alla ricerca di quei titoli che non sono diciamo facilmente fruibili all'interno del circuito convenzionale e ci siamo accorti che quando abbiamo proposto qualcosa di alternativo la risposta è stata anche abbastanza incoraggiante da ultimo ci siamo ritrovati a gestire la tappa palermitana di un viaggio italiano nel cinema tunisi col cinema tunisino organizzato alla cineteca di tunisi che ha fatto varie tappe tra cui milano pordenone perugia roma e palermo e abbiamo scoperto che c'era un pubblico molto ampio di persone interessate a questo tipo di cinema questo ci ha permesso di proporre una rassegna simile in realtà non proprio uguale in alcuni territori siciliani in cui per esempio la presenza della comunità tunisina è molto forte mi riferisco in particolare alla mazzara del vallo che è una cittadina dalle parti di agrigento che è una città fondamentalmente con una forte presenza araba appunto che ha ancora una casba è un muezzin che canta sul minareto e abbiamo proposto una tre giorni lavorando sia con gli esercenti con un film in lingua araba sotto i trovati in italiano sia con le scuole ci abbiamo pensato che il modo per rendere sostenibile questa queste attività al momento e forse anche diciamo per il futuro è quella di coinvolgere le scuole che ci permettono intanto di avere chiaramente un numero di ragazzi che vengono in sala ma anche lavorare su un'educazione all'immagine cioè abituare un pubblico giovane a partecipare a delle proiezioni e a vedere dei film che normalmente non vedrebbero considerando che la fruizione cinematografica per questa generazione molto spesso è legata al blockbuster al cinema nella multisala o al computer a Netflix a questo tipo di piattaforme qua noi siamo ancora in una fase un po' iniziale cioè nel senso stiamo costruendo la rete stiamo provando a capire come questa cosa può diventare sostenibile anche in rapporto alle dinamiche distributive che esistono nelle regioni italiane che molto spesso hanno dei limiti legati a una gestione una programmazione cinema che non lascia molto spazio ad altre ma a noi la cosa che ci lascia molto perplessi e soprattutto è una delle ragioni per cui ci muoviamo in questa direzione è quella di riuscire a proporre dei film che probabilmente fra dieci anni quando ragioneremo su questo periodo su questa epoca cinematografica probabilmente ragioneremo su quei film che non sono stati in sala e che hanno che non hanno una distribuzione che magari in altri paesi ora non per fare necessariamente l'esterofilo però c'è una differenza per esempio con la Francia dove dei registi italiani sono molto famosi e i loro film vengono visti da tantissime persone e invece in Italia e in particolare in Sicilia che secondo noi ha anche una posizione isolata rispetto alla distribuzione non trovano spazio. L'esempio per noi per esempio è Bella e perduta di Pietro Marcello che ha avuto una sola proiezione palermitana, se non siciliana, di questo non sono sicuro ed è stata dentro una delle nostre manifestazioni di cinema all'aperto estivo questo un po' la dice lunga considerando che invece l'interesse che all'estero mostrano per un autore come Pietro Marcello è molto forte ma anche da un punto di vista di pubblico c'è un interesse in questo senso quindi secondo noi in qualche modo c'è la necessità di recuperare un po' di terreno rispetto a questa situazione qua è provare a lavorare su un terreno vergine e lavorando anche, dato che è difficile entrare dentro le programmazioni di cinema per più giorni lavorare sugli eventi che però vadano in qualche modo a inserirsi all'interno dei cine club che nelle varie città e anche quelle un po' più piccole hanno una tradizione decennale per esempio magari di uno zoccolo duro che si è creato e che continua ad andare a fare un abbonamento basandosi sulla fiducia che l'esercente è riuscito a creare con il proprio pubblico e magari provare a inserire una proposta che mette dentro quei film che a nostro avviso sono un po' come dire fondamentali rispetto alla riflessione sul cinema e sul nostro tempo insomma il sistema è molto semplice nel senso c'è una rete di esercenti, c'è una rete di distributori li mettiamo in contatto, proviamo a fare questo tipo di operazione portando in Sicilia i registi e facendoli dialogare col pubblico e quindi dividendo anche un po' le spese è chiaro che questa è una fase in cui andiamo anche un po' a tentativi nel senso che molto spesso ci siamo ritrovati a avere risposte anche inaspettate ma anche in positivo nel senso magari di momenti in cui tantissima gente è venuta al cinema per una proposta e pensavamo invece fosse un po' meno interessante e quindi per noi in questo momento la cosa più interessante è riuscire a capire come rendere sostenibile questo aspetto come renderlo anche un po' un sistema che poi va un po' da sé per recuperare qualcosa che forse un po' si è persa io ogni tanto racconto questo aneddoto a proposito di una delle cittadine in cui mi hanno chiesto personalmente ma in realtà è anche una cosa che mi piacerebbe legare alle realtà che portiamo avanti è quella di Menfi un paese vicino a Grigento, in provincia di Grigento mi pare in cui il cinema non esiste da 50 anni esattamente dal 1968 quando il terremoto del Belice ha buttato giù il cinema che non è mai stato ricostruito cioè questo significa che ci sono due o tre generazioni di menfitani che non hanno vissuto la sala cinematografica all'interno del loro paese quindi evidentemente per vedere un film andavano in altri posti ecco secondo noi quella cosa lì va recuperata con delle operazioni che possono interessare il pubblico e allora l'idea qual è in questo caso? è un progetto che noi immaginiamo o per quest'estate o comunque per diciamo comunque quest'anno di festeggiare 50 anni senza il cinema fare un po' un discorso al contrario noi festeggiamo 50 anni senza cinema e provare a recuperare il film che era in programmazione il giorno del terremoto rimandarlo e da lì ricominciare con una rassegna che recuperi 50 anni di cinema che non sono stati trasmessi a Menfi questa è un'idea che chiaramente può essere ben comunicata e chiaramente creare un interesse ma quello che interessa a noi appunto è riportare la gente a viverla come un'esperienza di abitudine quella di andare al cinema quella di informarsi su quali sono i film in programmazione i film più interessanti eccetera chiaramente è un lavoro lungo chiaramente è un lavoro che mette appunto come dicevamo prima dentro le precondizioni però è un lavoro che sentiamo di voler fare e che probabilmente continueremo e speriamo magari il prossimo anno di venire a raccontare un tassello in più rispetto a quest'anno sicuramente diciamo il periodo storico non è particolarmente propizio per la questione anche un po' del mancato investimento strutturale sulla questione cinema però io penso che diciamo anche il cinema di oggi è diverso da quello di ieri penso che questa cosa qui forse condiziona anche il modo in cui bisogna cominciare a ragionare sulla possibilità di avvicinare il pubblico è chiaro abbiamo assistito in questi anni a un tipo di proposta che molto spesso si è concentrata su un evento che ha provato in qualche modo a concentrare in pochi giorni una proposta che magari diluita su più settimane avrebbe avuto meno però secondo me appunto è una scommessa sulla quale un po' bisogna sperimentarsi cioè nel senso magari qualcosa è inevitabilmente cambiato e forse considerando appunto potrebbe apparire un discorso trito-ritrito ma essendo cambiato un po' il modo di fruire del cinema e il ruolo che ha il cinema all'interno del panorama di offerta generale forse anche su quello bisognerebbe ricominciare a interrogarsi anche se io credo che la particolarità del cinema nel suo modo di essere fruito nel suo modo di di emozionare nel modo in cui viene vissuto secondo me è ancora molto forte come particolarità nel senso che forse sta lì il punto non solo nel modo in cui nelle nuove tecnologie vengono proposte anche perché anche esperienze recenti ci raccontano che dopo un primo periodo di novità poi si ritorna sempre un po' indietro quindi secondo me appunto per questo io dico noi lavoriamo proviamo a lavorare su orizzonti lunghi mettendo dentro tanti aspetti perché per noi per noi organizzare un festival di cinema e organizzare delle rassegne estive all'aria aperta non sono dei dei degli aspetti scollegati a tutto il resto per noi è una cosa che fa un po' sistema fa sistema perché ci permette di avere una proposta che prova ad alzare sempre un po' l'asticella quindi a mettere dentro dei film che magari difficilmente il pubblico conosce addirittura e poi anche tutto quella proposta che invece evidentemente riesce a attirare un pubblico cioè io credo che quella quel modo di rapportarsi al pubblico che quella di avvicinarsi o di provare a farsi seguire è un lavoro che che non può né appartenere a una sola realtà né a una sola esperienza ma è una cosa che va un po' messa a sistema e lo dico rispetto a tante a tanti elementi a tanti attori che concorrono a questo banalmente metterei dentro la critica anche la critica ha un aspetto ha un ruolo fondamentale in questo ed è una critica che non può essere né solo ad altissimi livelli tantomeno solo a un livello da rivista settimanale anche se credo chiaramente che anche quella cosa lì va gestita su più su più piani perché è chiaro che ci vuole un tipo di comunicazione che porti in curiosisca è un tipo di critica che invece si muove su orizzonti più più larghi più ampi perché spiega e prova a mettere dentro ragionamenti che non stanno solo nel non sono solo utili nel giro di una stagione cinematografica e io penso questo non so se quest'ultima legge è stata un'occasione mancata ma in ogni caso credo che chi partecipa alla diciamo alla produzione alla diffusione del cinema deve in qualche modo immaginarsi sempre un po' come unica parte di un sistema perché banalmente penso che tutta l'attività che noi facciamo all'interno del festival o delle rassegne è tutto un lavoro che torna alle sale commerciali per esempio perché come dire crea una proposta un interesse che in quei giorni riusciamo a intercettare noi nel resto dell'anno sono le sale che si muovono in quella direzione non per niente noi per esempio ci ritroviamo nella nostra nelle nostre attività a stare dentro una sorta di filiera che c'è dentro ci manca ovviamente la produzione però abbiamo il festival la proposta distributiva i sottotitoli cioè questa cosa qui è una cosa che per noi non è mai sono delle situazioni che non sono mai andate per i fatti loro hanno sempre cercato di ritrovarsi dentro e quindi adesso se noi per esempio ci ritroviamo a fare quest'ulteriore passata di distribuzione perché dietro abbiamo non solo un'esperienza e dei contatti che ce lo permettono ma anche una riflessione che nasce da tutte queste esperienze che ci dicono esattamente quale può essere il modo per provare a fare dei tentativi per riuscire a creare questo tipo di di interesse qui e diciamo è anche il modo per riuscire a attrarre il pubblico che chiaramente mette dentro tantissime cose cioè potremmo aprire l'enorme capitolo della comunicazione per esempio rispetto alla alle fasce più giovani a noi molto spesso capita di riuscire a attrarre giovani non necessariamente col cinema ma con delle degli eventi paralleli che li avvicinano magari non tutti riescono ad entrare in sala però è un lavoro che sta a margine ma che come dire che si preoccupa di intercettare anche quelle persone che magari al cinema non ci vanno abitualmente anche perché non hanno una grandissima passione anche perché ma che magari scoprono attraverso un'altra esperienza che c'è la possibilità di fruire qualcosa e magari si lasciano un po' cominciano a coltivare anche un interesse nei confronti del cinema quindi in realtà credo che in questo senso dico un'altra cosa banale è la rete che funziona quella cosa lì della rete ce la diciamo in continuazione quindi ovviamente a ripeterla può non fare anche da parte del del banale però è così nel senso che se vogliamo cioè non è con con il si salvi chi può che ci salviamo è con con la consapevolezza che tutti quelli che vivono all'interno del del cinema concorrono a formare qualcosa e quindi e quindi pensare che ci sia un'industria che propone dei film più facili e dei film più difficili se vogliamo riprendere quel tipo di terminologia che però stanno come dire dentro una normalissima proposta di un'industria culturale che ha degli autori che hanno perché poi capita molto spesso no di sentire di dire quella cosa del tipo eh però gli autori italiani degli altri tempi erano più bravi avevamo questa avevamo quell'altro sì ma mica non c'erano non c'erano quelli leggeri c'erano comunque e che forse c'era un sistema che funzionava e che si basava su tante cose e aveva delle proposte varie adesso ci ritroviamo ad avere delle proposte oggettivamente alle volte un po' facili cioè si va sempre su uno standard facile e però non sono funzionali a rendere possibili delle sperimentazioni o a dare spazio a degli autori che hanno delle posizioni anche un po' più avanguardiste ora uso un termine un po' obsoleto però evidentemente manca un po' questo aspetto qua di ripensarsi come sistema